Ciao a tutti bella ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video e allora faremo questa challenge per 30 giorni, non saranno proprio 30 perché non 30 di fila, perché avrò il calcio, i compiti, la scuola, quindi quando ho tempo io cerco di portarvi più video che posso, forse il lunedì riesco, lunedì vabbè, quando mercoledì è lunedì, vabbè, poi faremo questa challenge, qualche palleggio per ogni giorno per 30 giorni, allora poi ragazzi, io quindi ve l'ho già detto, faremo degli short e andateli tutti a seguire, poi dopo aver finito i 30 giorni, semmai mettiamo il video proprio, proprio il video, e vabbè, quindi mi raccomando, seguitemi, lasciate un bel like e iniziamo. Ok, allora ragazzi, non sono tanto bravo, aspetta, mi metto di qui perché lì c'è un pochino di discesa, no, no, l'agra Chris mi ha fatti tanto, ma perché io ho paura che quando qua sale, va giù, vabbè, quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, cosa dico, vabbè, al secondo giorno, ciao!